Il verde è sempre benvenuto, che siano palme o altre per me ha poca importanza. Questa è la settimana della moda, c'è un'area più internazionale con le palme e i banani, condividete. Guarda, non saprei. Perché no? Ieri hanno piantato anche i banani. Eh beh, perché no, qualsiasi cosa, basta che sia... anche i pini, cioè non sono contraria, non ne faccio un discorso politico. Forse ci stavano meglio i pini. Non sono d'accordo su questo, quello che è bello è che si dovrà vedere se alla fine il risultato visivo sarà gradevole. Lei condivide questa scelta... Di che cosa? Sono assolutamente contrario, non hanno niente a che vedere con le piante autoctone della zona. Che cosa avrebbe messo qui invece delle palme? Come stava. Ma questa qui è una cosa un poco... se l'hanno vista loro è inutile che noi possiamo esprimere un parere. Su amico condivide. Sanremo, Ventimiglia, Liguria è piena di palme, non so perché Milano non deve avere le palme. Sai che sabato qualcuno ha incendiato una delle palme qui in piazza? Una testa di cavolo che segue questi qua. Perché è una cosa che l'hanno ingigantito in una maniera assurda. Per me è una pubblicità che hanno fatto a Starbuck. Una testa di banana. Una testa di banana, veramente. Ce li teniamo. Grazie a tutti.